Preghiera per i giovani. Signore Gesù, che hai chiamato chi hai voluto, chiama molti di noi a lavorare per te, a lavorare con te. Tu che hai illuminato con la tua parola quelli che hai chiamati, illuminaci col dono della fede in te. Tu che li hai sostenuti nelle difficoltà, aiutaci a vincere le nostre difficoltà di giovani d'oggi. E se chiami qualcuno di noi per consacrarlo tutto a te, il tuo amore riscaldi questa vocazione fin dal suo nascere e la faccia crescere e perseverare sino alla fine.